Ridicoli, ridicoli. Siamo nel 2024, stiamo facendo un lavoro incredibile per quanto riguarda la promozione turistica della nostra regione, intera regione, quindi quando sento, ascolto, vedo cose di questo tipo, sorrido per non piangere. E dura e al contempo sarcastica la dichiarazione dell'assessore regionale al turismo Sergio Midiubini nel commentare la scelta del consigliere comunale di Udine Stefano Salmè, in aula con la lista liberi elettori Io amo Udine tra le fila dell'opposizione, di presentarsi alla conferenza di illustrazione dell'evento Friuli Doc con la maglietta Io sono Friuli, in aperta polemica con il logo Io sono FWG e dichiarandosi un caldo sostenitore della nascita delle regioni Friuli. Nel trentennale di Friuli Doc sarebbe giusto ritornare a parlare di una regione mai nata che è il Friuli. Io ritengo che quel logo Io sono Friuli San Giulia non ci rappresenta affatto, sia un po' un insulto alla nostra identità. Dichiarazioni che l'assessore regionale Bini respinge soprattutto per il grande lavoro che l'esecutivo sta compiendo proprio con il marco Io sono FWG a tutela dell'intera regione in termini di promozione turistica integrata dal mare Giuliano alle montagne friulane. Più morbida invece è la posizione del sindaco di Mugge, segretario triestino della Lega Paolo Polidori, che premettendo che i vari sentimenti territoriali vanno sempre salvaguardati e non a caso guardando in casa sua evidenze le peculiarità del capoluogo regionale, plaude al lavoro della giunta regionale sotto l'ottica di una gestione di insieme, tanto del turismo quanto delle identità delle singole aree del Friuli Venezia Giulia. L'identità non va assolutamente contestata e messa in discussione, dirsi e definirsi io sono Friuli va benissimo, siamo parte però di una regione che è amministrata egregiamente molto bene, che ha le sue autonomie, che ha le sue particolarità, dove il friulano come identità è anche garantita per legge, quindi da questo punto di vista un dibattito può essere lungo, ma è sacrosanto definirsi in questo modo.